Noi non vogliamo fare la guerra a nessuno, il nostro scopo è solo condividere la cultura. E questa oggi la posizione di Marco, cittadino gallaratese, che a luglio insieme alla sua compagna Sara aveva posizionato sulla recinzione della propria abitazione di Cedrate una casetta di legno per lo scambio di libri nel quartiere. Ma dal comune è arrivata una notifica. Non ci saremmo mai aspettati due settimane dopo di ricevere il merso comunale con un procedimento amministrativo, tantomeno che la segnalazione provenisse dal sindaco in persona. Abbiamo scoperto facendo l'accesso agli atti. Comunque abbiamo risposto con una memoria spiegando i motivi per cui l'architetto che abbiamo consultato, il presidente dell'associazione del book crossing italiano, tutti ci hanno confermato che non serviva nessun tipo di autorizzazione. Replica pronta dal sindaco durante una conferenza stampa. A me dispiace che abbiano smontato la casetta dei libri perché loro sono stati avvertiti il 20 luglio del fatto che dovessero mettersi a regola con quella che è la normativa che insiste su gallarate per quello che riguarda la commissione paesaggistica. La sovrintendenza ha detto che quella procedura necessita di una paesaggistica semplificata avrebbero potuto tranquillamente mettersi a regola dal 20 luglio adesso. La rimozione della casetta in via Gorizia è diventata un caso e occasione di scontro politico. Da quasi tutta la minoranza è stata firmata una mozione in cui si richiede la promozione delle casette dei libri e un'eventuale procedura più snella per la realizzazione delle stesse. Nel frattempo Marco e Sara hanno inoltrato e protocollato in data odierna con l'ausilio di un architetto la richiesta di autorizzazione paesagistica per la loro casetta dei libri che sperano torni presto a disposizione della comunità.